Domenica 6 agosto a Terano un crollo di 5 palazzine avvenuto in contemporanea ha ucciso 5 persone tra cui alcuni poliziotti e 11 feriti. Era già stato deciso di demolire quei palazzi perché si trattava di edifici non autorizzati. Tuttavia durante l'operazione di demolizione dalla prima palazzina qualcosa è andato sordo infatti dopo il crollo del primo edificio sono crollati conseguentemente anche gli altri.